L'arte di essere, il linguaggio del cuore nasce da che cosa? Dal fatto che facendo un lavoro con psicoterapeuti, operatori del naturale, medici, siamo arrivati alla conclusione che, e studiando anche la letteratura scientifica, che nonostante molte persone rispecchino e rispettino i fattori classici di rischio per malattie cardiocircolatorie, ne soffrono. Quindi, i famosi obesità, cattiva alimentazione, uso di sostanze, eccetera, sì, sono correlati allo stato di salute, ma non sono sulle sole. E dal di lì mi è partita una domanda un po' di tempo fa, ma allora cosa c'è? Mi sono imbattuto in questa, seguitemi. E' una frase che, anche se è articolata e forse contorta, ma segna un mio passaggio importante, che è quella di Rubbie, ma prima e dopo Rubbie l'hanno detto in tanti, che noi conosciamo solo una piccola parte dell'intero universo, alias conosciamo una piccola parte del mondo materiale. Ancora, le nostre azioni sono in minima parte governate dal nostro intelletto, dalla nostra ragione. Quando ho incominciato a studiare il cuore, non dal punto di vista fisiologico, anatomico, poi ci sono chi mi, chi seguirà un medico, quindi potrà, se riterrà opportuno, anche fare qualche riferimento a proposito, perché il cuore se ne è sempre parlato, ma il cuore è stato considerato, a differenza di quello che è il periodo moderno, il centro dell'essere, essere con la E maiuscola. In diverse tradizioni il cuore, quando parlo di tradizioni parlo di culture antiche, di tradizioni antiche, il cuore è il ponte fra l'uomo, l'essere umano, e il trascendente, fra la terra e il cielo. Vi chiedo in questa prima parte di seguirmi, oltre che con la ragione, perché sto parlando e quindi vado ad attivare delle vostre parti razionali, anche con la dimensione simbolica, che forse è più dell'emisfero destro, è più del cuore, quindi del linguaggio del cuore, ma abbiamo sviluppato tutto, quindi seguitemi, perché dire è il centro dell'essere, il ponte fra cielo e terra, apre dei mondi infiniti. Noi non abbiamo la possibilità di aprire, abbiamo solo la possibilità di collegare a delle conoscenze, esperienze che avete già e a un linguaggio simbolico, che è quello che usa René Nguenonna e che su questa prima parte faccio riferimento. Sì, questo è un basso rilievo che si trova in Francia, che esprime un cuore radiante, diverso da un cuore fiammeggiante. Perché questa prima distinzione? Perché per chi come me ha delle conoscenze della cultura tradizionale, della cultura antica, sa che l'intelletto, con la I maiuscola, è un'espressione dell'essere umano superiore ad ogni altra. L'intelletto ci collega con la verità, ci collega col trascendente. Ok? Anche qui seguitemi dal punto di vista simbolico. Quindi l'intelletto superiore ha tutte le altre forme, manifestazioni dell'essere umano. Ci collega alla verità, ci collega al trascendente, a Dio, chiamiamolo come preferiamo. E si fa una, in queste tradizioni, in queste conoscenze antiche, si fa una distinzione fra il cuore radiante, che ci collega all'intelletto, da non confondersi con la razionalità, ma ok, dalla cuore fiammeggiante. Perché il cuore radiante ci collega all'alto, il cuore fiammeggiante è orizzontale, è collegato, soprattutto nell'epoca moderna, alla dimensione emotiva. E qui lo dico in senso discriminatorio rispetto all'intelletto, poi recupererò meglio questo concetto. Questa ve l'ho voluto portare perché è un'immagine che si trova in un vaso greco e alla vostra destra avete Dioniso, che ha una corona di cuori. Sono i primi cuori che sono stati trovati, provenienti dall'antichità. Per contrabilanciare sempre, antico con la presente, una cosa più leggera, del cuore, dei sentimenti, delle emozioni, con l'opportunità e differente, come abbiamo detto prima, se ne è parlato da sempre, poeti, mistici, filosofi, ermetici. E ho preso frasi, dicevo, prese da culture antiche, abbiamo visto, adesso vediamo questa, sufi, dove il cuore è al centro, dove il cuore, dicevamo prima, è il ponte fra l'umano e Dio, dove il cuore stesso è il luogo ove alberga Dio. Del cuore se ne è sempre parlato anche nei miti primitivi. I vincitori mangiavano il cuore dei vinti per acquisirne il coraggio e placarne il conflitto. Nella cultura egizia, se vi ricordate, questi sono papiri che si trovano anche nel museo di Torino, il cuore, sulla vostra sinistra, doveva essere, nell'atto, nel momento della morte, più puro del peso di una piuma. Il cuore era l'unico organo che veniva lasciato quando veniva mummificato, come che dovesse servire il cuore nella vita anche nell'aldilà. Il cuore, dicevamo, come luogo dove alberga Dio, la buddhità, la sacra grotta di Betlemme, quindi anche nella cultura cristiano-cattolica questo elemento lo ritroviamo. Nella sacra bribbia non è citato il cervello, dico non è citato perché magari qualcosa mi è sfuggito, è invece molto citato per almeno 340 volte il cuore. Anche Paracerso se ne è occupato del cuore e sostenendo appunto che il cuore rappresenta il microcosmo nel quale viene riflesso il macrocosmo. Aristotele. Lo stesso Aristotele riteneva che tutte le capacità della mente fossero localizzate nel cuore. Il cuore è al centro dei sette meridiani, quindi è il ponte fra i meridiani superiori e i meridiani inferiori. Il quarto chakra, precisamente. E il cuore viene appunto assimilato al maestro del cuore, al fuoco, al calore, come vedete, allo shen. Del cuore ne ha parlato anche Dante, nella vita nova, spirito della vita lo quale dimora nella segretissima camera del cuore. Del cuore ne ha parlato anche i romandi, presi a caso nella letteratura. Ma facciamo sempre questo salto fra passato e presente. Anche il mistico Silesius, anche se il Cristo fosse nato mille volte a Betlemme, ma non nel vostro cuore, voi sareste, ciò di meno, perduti. Quindi sottolinea come il Cristo deve essere nato all'interno del nostro cuore. Tutte queste citazioni dalle varie dottrine, filosofie e regioni antiche sono, dal mio intento, fatte in maniera, se mi passate il termine, laica, non spirituale, non è questo l'oggetto del mio intervento, ma prendere da questi testi antichi dei riferimenti che possono esserci utili come tanti altri elementi, ma più di altri elementi perché rimangono validi ancora oggi. Lo stesso Lucrezio. Ricordate prima, vi ho chiesto gentilmente di provare a usare la razionalità, ma anche la dimensione simbolica. Bene, vi chiedo un ulteriore sforzo in questa direzione, ossia di provare ad associare alla dimensione del cuore e della mente il sole e la luna. E queste sono immagini molto antiche, una delle quali, in omaggio alla terra da quale sono nato, trovata vicino in Romagna, a Bagnacavallo. Una delle, pare una delle più antiche sculture, incisioni, scusate, in una natura di una luna e di un sole, riconosciute, non è che... Ma veniamo ad oggi. Cuore e cervello, cosa fanno? Si combattono, fanno il braccio di ferro, perché vince, vince l'emozione, vince la razionalità, si stanno in equilibrio oppure il cuore porta il cervello. In questo viaggio, prima ho associato il cuore all'emozione, è semplicistico, adesso lo vedremo meglio. in questo viaggio, da qui in poi, che faremo, ovviamente proverò a dimostrare, in base a studi, che non sono miei, ma io ho preso e vi riporto, sono studi che vi riporto, ma che, come dire, costituiscono un oggetto di studio, di vita personale e di vita professionale e quindi sono carichi anche di questo tipo di energia. Quindi dicevo, proviamo adesso a dimostrare questo assunto, che il cuore porta il cervello. Per molto tempo il cuore si è considerato un muscolo, una pompa, che pompava il sangue in tutto l'organismo umano. negli anni 90 in California alcuni studiosi che partono dagli studi sullo stress, si chiama l'Istituto Earth Math, qualcuno annuisce quindi lo conosce, ha cominciato a raccogliere studi precedenti e a farne dei nuovi, dove hanno visto che loro o qualcuno prima di loro, uno, il cuore non è solo una pompa, non è solo un muscolo, ma ha un proprio cervello, come l'hanno fatto dimostrare, ha visto che hanno delle cellule cerebrali, 41.000, molto poco rispetto alle cellule cerebrali che troviamo nel cervello, ma sufficienti per far sì che il cuore del cervello possa provare emozioni, scambiare informazioni e comunicare con i vari altri organi del nostro corpo e con i sei sistemi biologici, biochimici del nostro organismo, sistema digerente, sistema respiratorio, sistema immunitario, eccetera. Quindi questo cervello permette tutto questo, quindi si può considerare a tutti gli effetti un sistema cerebrale autonomo, proprio perché è capace di provare emozioni, passare informazioni. l'altro elemento, il cuore è una ghiandola endocrina, Watts produce degli ormoni e questi ormoni, guarda caso, sono ormoni legati a uno stato di benessere psicofisico dell'essere umano, dopamina o citocina, qualcuno magari ne ha sentito parlare. questi ormoni sono ormoni legati al benessere. Terzo elemento del cuore scoperto appunto da questi studiosi, il cuore ha un campo elettromagnetico superiore a quello di tutti gli altri organi del nostro corpo. Cosa vuol dire? In termini semplici che possono arrivare a tutti noi, significa che avendo un campo elettromagnetico molto potente, 5.000 volte per esempio superiore a quello del cervello che viene subito dopo, il suo campo elettromagnetico può influenzare il campo elettromagnetico degli altri organi. Sapete qual è poi anche la novità nella novità? È che questo campo elettromagnetico è grande dai due metri e mezzo ai quattro, forse più perché non ci sono strumentazioni adeguate per misurare un campo elettromagnetico degli organi interni che superi appunto i quattro metri per cui potrebbe essere anche superiore. Quindi vuol dire che questo campo elettromagnetico del cuore influenza gli altri organi, vuol dire che io mi sto avvicinando alle prime file il mio campo elettromagnetico del mio cuore influenza il vostro e viceversa. Greg Braden per chi lo conosce si spinge oltre ma sempre parlando dai stessi studi dice che questo campo elettromagnetico può influenzare anche il campo elettromagnetico della Terra e viceversa il campo elettromagnetico della Terra può influenzare a sua volta il nostro. Anche qui sono informazioni qualcuno di voi aveva già qualcuno di voi le sente per la prima volta ok vi invito sin da adesso ma poi successivamente in maniera più sistematica a sperimentare a vivere questa informazione cioè a sentire la risonanza con l'altra persona a me subito viene in mente ma è una semplificazione grossolana tanto per ancora una volta agganciarci a delle informazioni che abbiamo un po' tutto alle affinità elettive di Goethe oppure al potere della meditazione che appunto è stata anche questo dimostrato scientificamente della meditazione e della preghiera e qui i risultati sono stati dimostrati scientificamente quindi la scienza oggi arriva dove le culture antiche le culture tradizionali antiche appunto avevano intuito o avevano scoperto attraverso le loro modalità che non sono sicuramente le nostre qui c'è un altro riferimento ai tre cervelli che non sono esattamente i tre componenti che sono nel cervello cervello retiliano limbico e la neocortezza ma qui parliamo del cervello in senso lato del cuore e degli intestini prendendo appunto spunto sempre dalla cultura cinese la definizione alcune caratteristiche più che la definizione di cosa è il cuore e cosa è il cervello e una domanda noi viviamo nell'amore e nella gratitudine o viviamo nella paura e nell'odio ripeto noi siamo un pubblico selezionati siamo qui 20 dicembre ma fuori di qui sappiamo benissimo come le persone vivano nella paura nella diffidenza nel vittimismo che sono emozioni collegate a certi organi non solo come vedremo meglio poi io vi ho dato alcuni dati sul cuore non vi ho ancora detto le cose ancora più importanti che questi scienziati hanno scoperto del cuore il cuore per molti tempo si è considerato questo una pompa e un sistema elettrico ma il cuore è anche si è intrabattiato un direttore d'orchestra quello di cui dicevamo prima il cuore avendo un campo elettromagnetico superiore a quello degli altri organi se è in coerenza questa parolina la spieghiamo fra un attimo influenza gli altri organi gli altri sistemi biologici del nostro organismo e ci permette uno stato di benessere psicofisico permette il nostro stato quindi la nostra condizione psicofisica è legata alla ruolo che gioca il cuore come direttore d'orchestra perché dico parlo di direttore d'orchestra non uso un altro termine anche perché si è visto che tutti i vari sistemi biochimici del nostro organismo sono come nodi di una rete quindi sono sullo stesso livello non ce n'è uno superiore dall'altro sono in sinergia ok ma il direttore d'orchestra nonostante sono in sinergia il cuore avendo quelle caratteristiche che abbiamo detto prima sistema una ghiandola endocrina campo elettromagnetico 5.800 più potente del cervello può fungere da direttore d'orchestra produce ormoni abbiamo già detto adesso vi confondo un po' l'idee ma non sapevo preciso chi sarebbe stato oggi quindi ci sono dei medici in sala degli esperti più di me di fisiologia e anatomia il sistema questo serve a capire la complessità di quello di cui stiamo parlando oggi sistema nervoso centrale e vi porto solo l'attenzione sul parassimpatico e simpatico che afferiscono al sistema nervoso autonomo e che sono chiari che sono importanti poi quando parleremo di coerenza cardiaca il sistema simpatico è il sistema che come vedete regola la frequenza cardiaca sistema respiratorio la mobilità gastrica invece il sistema parassimpatico è quel sistema che fa diminuire il cuore quando è in accesso di cardiaca fa diminuire la nostra detta volgarmente la nostra frenesia appunto quando siamo sotto stress e quindi ci riporta ci ribilancia da un punto di vista neurologico e da un punto di vista energetico quindi un equilibrio fra sistema simpatico e parassimpatico è fondamentale sia in un eccesso che nell'altro eccesso si possono sviluppare dei disturbi che prima sono tali poi possono diventare delle vere proprie patologie il sistema di coerenza cardiaca quindi di frequenza armoniosa del battito cardiaco armonizza anche l'equilibrio fra simpatico e parassimpatico dicevamo delle tre parti del cervello la parte antica la parte limbica e la neocorteccia quella legata appunto alla coscienza la conoscenza la rielaborazione noi tutti sappiamo che se abbiamo avuto un'esperienza negativa nel passato della serie un cane ci ha morso nel passato parliamo dei bambini ok cosa succede è che tutte le volte che vediamo un cane o comunque il cane quando ringhia si attiva nella nostra memoria quella ricordo e qui ci siamo tutti si attiva nel nostro cervello anche l'emozione di quella volta che quel cane ci ha morso perché c'è un sistema quasi perfetto in cui noi andiamo a depositare nella amigdala che è una ghiandola appunto del sistema limbico questo ricordo questa emozione e tutte le volte che vediamo un cane ringhiare questa emozione si riattiva perché l'amigdala è la nostra banca dati emozionale ok se invece noi riusciamo a portare in coerenza il cuore e dopo questi studi hanno messo in evidenza anche alcuni esercizi specifici riusciamo a portare in coerenza cardiaca il cuore si bypassa il sistema classico di costituzione della banca dati e quel cane non so dirlo in altro modo che in questo quel cane è quel cane di qui e ora non ha nulla a che fare con quel cane del passato va bene ok il cane ma io non sono stato morso dal cane non mi ha fatto paura nessun topo niente cosa c'entra no no perché questo riguarda le relazioni riguarda tutte le nostre esperienze quindi ci può essere stato qualche altra esperienza che ci ha e ci influenza ricordatevi la slide iniziale di cui i nostri comportamenti solo per il 5% è una stima approssimativa ovviamente però rende l'idea che è bassissima sono del tutto volontari tutti gli altri sono involontari per l'inconscio per le nostre esperienze dite quello che pensate a quello che volete in base alla vostra conoscenza personalità e professionalità ok però rimane il fatto che noi siamo proattivi quindi inserisco sempre un termine nuovo molto poco rispetto a quello che pensiamo di essere perché siamo reattivi cioè reagiamo degli stimoli esterni tipo quante volte ci è capitato a noi no ma agli altri che sono fuori sì mi hai fatto arrabbiare ma smettila di dire così perché questo e cosa vuol dire è l'altra faccia di quello che ho appena detto cioè l'altro non ci ha fatto arrabbiare primo non aveva nessuna intenzione di farlo secondo che è ancora più importante l'altro è andato a attivare dei meccanismi interni nostri che hanno fatto sì che noi ci arrabbiassimo non l'altro già questo cambiamento di approccio al problema alla relazione alla relazione per rischio chiamarla ci apre il mondo a nuove prospettive quindi non è lui che mi ha fatto arrabbiare anche se ha detto quella cosa ma sono io che che anzi sono io in me sono scattati dei meccanismi che posso andare a vedere e ancora una volta torno alla parola specchio specchio l'altro ci fa da specchio quindi dicevamo cane ma la persona esperiente negative bene quindi quella persona che usa quel tono di voce quella postura quel modo di fare mi seguite? perché a volte può essere tono di voce postura contenuto ancora prima dei contenuti sono queste cose qui non sono il contenuto in sé perché da adulti ci sono dei bambini qui da adulti se noi ci pensiamo un attimo ma come ha fatto quella cosa lì a farmi arrabbiare ma è così banale così semplice così scontata che non è così poi vabbè non sto generalizzando sto parlando di tutto ci sono anche delle cose che magari hanno un altro peso semantico hanno un altro peso emotivo ma non sto parlando di quelle ok parlando delle prime quindi dicevo in quella circostanza lì il passaggio non è lui ma sono attiva dei miei meccanismi è questo proviamo a creare in una banca dati emozionali nel nostro cervello questo è lo stimolo una delle novità di questa di questa mia relazione proviamo a entrare in quest'ottica qui quindi attraverso alcuni esercizi meditazioni visualizzazioni e cose simili si può creare maggiore coerenza nel cervello scusate nel cuore che il cuore poi crea maggiore coerenza negli altri organi e creare una nuova banca dati emozionali e nuovi schemi mentali che si possono fissare inizialmente nella amigdala sede della sfera emotiva dell'essere umano la neocorteccia sfede invece della razionalità del ragionamento della riflessione anche nella neocorteccia perché perché c'è una rielaborazione e quindi quello che hanno detto in tanti in termini diversi per me adesso hanno assunto una luce diversa se prima alcuni di noi sono cresciuti io lo dico non ho difficoltà a dire il pensiero crea adesso abbiamo visti ma ne assommare per il tempo che c'è a disposizione come questo sia fattibile con l'inserimento del cuore quindi il mio partner non è il partner di ieri con la quale luttigato o col quale ma è come che fosse il primo giorno e non è una buttada se voglio cambiare il rapporto posso viverlo così ok quindi per esempio non aspettare di essere felici dopo aver recuperato il rapporto ma cerco di essere felice ora per recuperare il rapporto perché sappiamo benissimo quanto sia difficile poi recuperare un rapporto in uno stato di risentimento William James medico del secolo scorso sì secolo scorso ha scritto questa frase apparentemente banale che io vi propongo siamo tristi perché piangiamo adirati perché colpiamo impauriti perché tremiamo e non il contrario come abbiamo associato a quelle azioni delle emozioni l'aveva già intuito allora prima di tutti questi studi è interessante associamo a quelle azioni delle emozioni ma potremmo associarne delle altre adesso proviamo a presentarvi questa slide dove presenta queste immagini dove vedete in alto a destra la frequenza cardiaca di una persona che dichiara e si sente frustrata è diametralmente opposta diversa da una persona che vive l'apprezzamento il cuore comunica con il cervello l'altro organo importante del nostro organismo in quattro modi in maniera neurologica attraverso gli impulsi nervosi biochimicamente attraverso gli ormoni biofisicamente attraverso le onde pressorie e attraverso l'energia ossia attraverso le interazioni del campo elettromagnetico questa è un'immagine della comunicazione che avviene appunto fra cuore e cervello c'è questa studiosa che partendo dagli studi della EarthMath che si chiama Markwer che ha provato a sistematizzare fisica coscienza e medicina da 150 anni a questa parte ad oggi e ve lo propongo perché è molto molto interessante vedete come seguendo la prima colonna la fisica newtoniana newtoniana la fisica della relatività la fisica quantistica e la fisica delle superstringhe vedete come la fisica quantistica e la superstringhe c'è pochissimo tempo è passato e percorso pochissimo tempo da quanto appunto queste teorie si sono diffuse a differenza delle prime perché c'è comunque un cambiamento più veloce della quale probabilmente molti di noi ne sono consapevoli e probabilmente anche artefici e protagonisti la stessa cosa è avvenuta nella coscienza perché c'è una corrispondenza ovviamente ogni riga c'è una corrispondenza quindi la fisica quantistica salto alle prime due è la fase della coscienza mentale ed emozionale la noetica è un sì un neologismo ma mi perdoneranno i cultori della tradizione possiamo tradurre come metafisica e quindi la noetica si interroga su chi è l'uomo su chi è Dio e su qual è la relazione fra l'uomo e Dio ok quello che facevano i metafisici un po' di tempo fa non è esattamente così non è solo così ma associamolo e colleghiamolo già a quello che noi sappiamo perché la noetica non è solo filosofia o solo metafisica in senso stretto e anche si avvale anche di studi appunto scientifici che è la novità appunto della noetica sono dissertazioni filosofiche per quanto siano importanti fondamentali ma hanno anche un substrato scientifico parallelamente a questo c'è la medicina quantistica qualcuno di voi sicuramente vi si è imbattuto la fisica delle superstringhe è associata alla fase della cosciente della via da messo del cuore questa è un'edizione presa ovviamente dalla medicina cinese che abbiamo visto prima il riferimento e la medicina teosomatica ne parlava non mi ricordo se lui stesso usava questo termine assaggioli ma comunque il concetto era questo è il non parlare più di ciò che ci fa soffrire ciò che ci fa stare male ciò che ci procura patologia ma il contrario la salutogenesi cioè ciò che ci fa stare in salute ciò che ci fa stare meglio cioè il scoprire il talento che ognuno di noi ha e viverlo questo può fare la differenza ho fatto delle ricerche mi sono confrontato anche con altri colleghi in primis medici psicoterapeuti eccetera e abbiamo visto che rispetto a tanti rimedi che ci sono li chiamo rimedi dove ci sono anche i farmaci chimici ci sono i rimedi possono essere rimedi fitoterapici omeopatici possono essere attività fisiche può essere la stessa meditazione qui anche qui se siete d'accordo bene se non siete d'accordo pensateci non tiratemi quello che avete in mano quello che fa la differenza non è il rimedio in sé ma il risultato vettoriale di almeno quattro elementi uno comincio da quello il rimedio in sé perché comunque può fare la differenza due dico in ordine sparso il livello di consapevolezza oppure il livello di coscienza se preferite dell'essere umano tre il rapporto che si crea fra quella persona e il terapeuta l'accompagnatore il cancelo la relazione e torniamo ancora una volta al tema della relazione ok? non parliamo della relazione che c'è fra lui e il rimedio perché c'è anche quella e il quarto livello è il contesto culturale nella quale culturale in senso lato del termine nel quale si colloca questo tipo di rapporto e si colloca questo tipo di rimedio ok? quindi una medicina teosomatica che parte e vuole rimanere vuole approfondire non la patogenesi cioè ciò che crea malattia ma ciò che determina salute e sviluppo delle potenzialità umane è la medicina che è collegata alla via del maestro del cuore e alla teoria delle superstringhe l'altro elemento importante del cuore noi tutti abbiamo sentito parlare di sincronicità abbiamo detto anche prima di intuizione da non confondersi con l'istinto un'altra cosa la sfera intuitiva è una sfera che abita nel cuore e la si può appunto sviluppare sempre con quelle tecniche di cui dicevamo sopra cioè di coerenza cardiaca sono quei flash quei insight quelle intuizioni quelle sincronicità che magari a molti di noi capitano di vivere abbastanza frequentemente altri meno però capita un po' a tutti di collegare di collegare due cose che magari non sono state mai collegate perché poi la sfida la scommessa il bello è anche quello collegare due cose due persone due emozioni due ragionamenti che magari non l'abbiamo mai fatto fino a quel momento quindi la coerenza cardiaca dicevo può riequilibrare armonizzare sistema simpatico parassimpatico quella la carenza cardiaca può renderci più forti anzi ci rende più forti a gestire situazioni di stress perché in quel momento il cuore produce maggiormente gli ormoni del benessere vedete la differenza il cuore in coerenza cardiaca come sono più ormoniose le oscillazioni invece come a sinistra lo sono molto meno qui sono presentati sono sempre presi studi dall'istituto EarthMath la respirazione prima della della frequenza cardiaca e la stessa oscillazione della persona X dopo lo stato di coerenza cardiaca vedete come le onde sono più armoniose le variazioni sono più armoniose quali sono gli step per trasformare perché non si tratta né di gestire né di cambiare l'ansia e lo stress fanno parte comunque di questo mondo di questa epoca e si tratta di trasformarla lo vediamo insieme perché questo è un punto qualificante poi su questo andiamo a chiudere primo step è ridurre i depositi emozionali che ci rendono reattivi piuttosto che proattivi le abitudini stressanti ci allontanano ad essere proattivi una pessima gestione del tempo ci allontana ad essere proattivi quando dico pessima gestione del tempo è quello che secondo me maggior parte delle uomini e donne di questa epoca hanno invertito la scala invece di dedicare più tempo alle cose importanti delle cose più importanti si dedica molto meno tempo è inversamente proporzionale anche qui provare per credere non adesso pensateci dopo provate a fare una gerarchia dei valori delle cose più importanti per voi poi la seconda colonna metteteci quanto tempo ci dedicate se non voi qualcuno che conoscete scoprirete che ci dedica è inversamente proporzionale più la cosa importante meno tempo gli dedicate è un po' strana questa roba qua che è strani esseri che siamo diventati secondo step arrestare il drenaggio energetico emozionale la vitalità causato dallo stress e i nostri comportamenti disfunzionali anche questo è importante ovviamente tutti abbiamo chiaro il concetto di salute eccetera che è uno stato di benessere lo dice sempre la Regione Mondiale della Sanità già nel 1956 è uno stato di benessere psicofisico e sociale già nel 1956 bene qui stiamo dicendo una cosa ancora in più in aggiunta il benessere è uno stato vitale in cui noi ci sentiamo vitali quando spesso ci dicono o noi stessi ci sentiamo stanchi c'è qualcosa a parte che si è materato troppo e che ha materato troppo però c'è sempre il nostro il nostro quid di vitalità o di energia per dirlo in termini altri è venuto meno e quindi forse c'è qualche cosa stiamo vivendo in maniera dissonante non coerente con i nostri valori con i nostri principi con la nostra vita ok quindi è necessario restare questo drenaggio emozionale cioè di emozioni disfunzionali per dirla con la PNL negativa per dirla con il linguaggio comune per recuperare la vitalità quella vitalità che ci permette di essere proattivi molte volte diciamo no non ne voglio no non ho tempo no sono stanco tutti noi lo diciamo ok interroghiamoci un po' di più sul nostro livello di vitalità rispetto ai nostri obiettivi che abbiamo nei prossimi giorni nei prossimi mesi nella nostra vita apportare terzo step nuova energia emozionale e qui è l'altra cosa importante del cuore la prima è lo schema non è tutte le informazioni che vi ho dato è quello che ci sta dietro creare un nuovo schema emozionale e schema cognitivo e qui adesso introduco il secondo forse ancora più importante apportare nuova energia emozionale cosa vuol dire vuol dire che possiamo avere emozioni di gratitudine di compassione di riconoscenza di gioia di serenità perché queste e già da molto tempo si è visto che producono un cambiamento emozionale e quindi fisico nel nostro organismo molto potente non è l'idea solo di qualche di qualche reduce della next age o giù di lì si è visto che il pensiero di gratitudine di riconoscenza ci cambia la vita noi abbiamo tutte le nostre ragioni ad avercela con qualche d'uno ad essere arrabbiati con qualche d'un altro avere qualche paura piuttosto che un'altra paura ancora abbiamo tutte le nostre ragioni ma se scopriamo che avere comunque un atteggiamento di riconoscenza nei fondi dell'altro ci può cambiare la vita perché allora non percorrere questa seconda strada è uguale alla prima ma la prima ci porta alla mancanza di vitalità prima e alla malattia dopo la seconda ci porta alla riconnettersi con i nostri talenti con le nostre potenzialità e quindi ad avere un'altra vita indipendentemente dall'età che abbiamo anche questo è da sperimentare l'altro step è proprio compiere questa sorta di rigenerazione emozionale sostituendo le vecchie emozioni dei potenzianti con delle nuove emozioni potenzianti e ripeto il concetto abbiamo tutte le buone ragioni per averci l'accontizio che è o sempre ognuno che può essere nostro partner nostro dottore di lavoro nostro madre nostro figlio eccetera ok ce l'abbiamo possiamo avere tutti ma abbiamo anche delle buone ragioni per poter e voler ringraziare quella persona non conosco nessuno che non abbia delle buone ragioni per poter fare anche se da quella persona noi abbiamo ricevuto il peggio del peggio è dal di lì che nasce il nostro riscatto è dal di lì che nasce il perdono è dal di lì che si può lasciare andare il passato ed è dal di lì che ci possono essere nuovi schemi emozionali mentali e quindi una nostra nuova vita facendo questo si compie una sorta di ricablaggio del nostro sistema emozionale e mentale a noi scegliere quella famosa domanda di prima se vivere nella paura oppure se vivere se lasciare spazio a persone a emozioni che veicolano questi altri stati d'animo qualcuno dirà penserà o dirà fra un attimo sì però non dipende da noi cosa provare ecco non torniamo indietro uno scuote la testa benissimo ok l'ho dato per scontato ma credo di averlo abbondantemente detto e ho usato la scienza antica per supportare questo ragionamento la scienza moderna con l'istituto Erdmacht per ancora un altro supportare questo ragionamento ma il concetto è quello cioè i nostri stati d'animo dipendono da noi e quindi sta a noi dal classico permettetemi vedere il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto è il punto di partenza qui siamo molto più avanti vedere se vogliamo vivere con emozioni di gratitudine rispetto riconoscenza oppure di rivalsa sofferenza malessere ovviamente questi consigli sono per chi vive una vita normale per chi ha patologie il discorso è diverso però la base rimane ugualmente valida quindi chiudo veramente dicendo facendo un invito di rispondere voi mentalmente qui ora mentalmente fatelo perché è diverso che ascoltarmi e dire bah sì sì sono d'accordo con ma non dirvelo ditevelo se volete dire anche ad alta voce meglio ancora nessuno credo che si scandalizzi ma ditevelo vogliamo vivere all'insegna della paura degli annessi e connessi o all'insegna dell'amore e della gioia rispondiamoci e ancoriamo questa emozione questa potenza del cuore dell'intelligenza del cuore dentro di noi grazie di essere stati qua e buon proseguo di giornata grazie